I have a wonderful electronic invention, I want you to see, it looks something like this. Dal vino all'olio, terminata la vendemmia, è già iniziata la raccolta e la molitura delle olive nelle tenute di fraternita, mantenuta la qualità dell'oro verde nonostante le difficoltà della stagione 2023. La raccolta delle olive ha avuto una riduzione del 60-70%, quest'anno avremo una quantitativa di olio estremamente basso. Il nemico numero uno dell'olivo è questa, si chiama mosca olearia. Questo strumento qua è una trappola sessuale, per cui la mosca olearia viene attratta dal ferormone che è collocato qua su questa superficie e dal colore. Noi quando vediamo la presenza della mosca olearia in un oliveto interveniamo in due maniere. La prima, come vedete qui, sono le olive che hanno avuto una irrorazione di caolino. Vedete, questo è un olivo completamente bianco, è una polvere bianca di roccia biologica consentita, che impedisce e forma uno schermo protettivo sulla drupa dell'olivo, quindi per cui la mosca olearia non può penetrare e mettere le uova e mettere le larve e così le salviamo. Ma non ci è bastato. Noi abbiamo usato anche un prodotto innovativo, ottenuto dagli actinomiceti che sono nel terreno, uniti ad un'esca, per cui quest'esca proteica attrae la mosca olearia, mangia l'esca proteica, però contemporaneamente prende quest'actinomiceti del terreno e la mosca olearia muore. In agricoltura bisogna essere innovativi e contemporanei, altrimenti noi rischiamo di non avere il raccolto. Non è stata una stagione semplice ad influire soprattutto le particolarità climatiche? Sì, un po' come la viticoltura, anche l'olivicoltura ha sofferto tantissimo in questa annata, perché soprattutto le piogge ripetute, abbondanti, nel periodo della fioritura, hanno causato la poca allegagione negli olivi della Toscana e in Arezzo in particolare. Qui nella zona di Civitella, dove ci troviamo, noi abbiamo una buona e ottima produzione, perché le fioriture sono state più ritardate e sono sfuggite ai problemi dovuti alle intense piogge primaverie e estive. Per cui, essendoci stata una fioritura tardiva, qui hanno potuto allegare meglio e abbiamo, soprattutto per la varietà di moraiolo in questa zona, una produzione abbondante e soprattutto senza attacco di mosca, per la quale abbiamo fatto degli interventi biologici con caolino e con altri prodotti biologici. Terminata la vendemmia, siete già partiti con la raccolta delle olive? È un prodotto biologico il vostro? Assolutamente sì, ormai tutta l'azienda è biologica. Finita la vendemmia, appunto, partiti già con la raccolta, è già disponibile l'olio nuovo in fraternita in tutti i nostri punti vendita, Mugliano, Museo e Castiglion Fibocchi. L'attività che abbiamo visto ci indica che comunque è anche un sinonimo di buon governo, di amministrazione di quello che sono appunto anche le varie attività di fraternita. La fraternita dei laici è un ente pubblico. Tutti gli aretini hanno la proprietà di questo bene. Governare un bene comune come la fraternita dei laici con i suoi 1200 ettari, con le sue quasi 10.000 piante di olivo, è un esempio di buon governo. Noi come fraternita dei laici vogliamo essere giudicati dai risultati del nostro lavoro. Non solo olio, come abbiamo detto in apertura di questo approfondimento, anche il vino trova spazio nella produzione agricola di fraternita. È iniziata la svinatura nelle cantine di Mugliano. Terminata la vendemmia, procede la produzione di vino biologico. Siamo rimasti contenti della raccolta dell'uva. Abbiamo raccolto oltre 3.000 quintali di uva. Però quest'anno è stato un anno difficile per molti, perché la peronospora ha invaso le nostre vigne e noi ci siamo salvati perché abbiamo avuto paura della peronospora. E quindi abbiamo usato, pensate, un olio di arancio dolce. Un olio essenziale che ha eliminato la peronospora nelle nostre viti. Qui è la nostra cantina. Ci sono più di 20 vasche che contengono circa 15.000 litri. Ma abbiamo iniziato adesso la svinatura. Giusto dedicare anche una parentesi al biologico. Vedete, qui in questa vasca ci sono 15.000 litri di vino biologico. Tutti i nostri vigneti sono biologici. Ma c'è di più. Abbiamo dato disposizione di non usare nessun diserbante chimico perché tutto deve essere biologico. E in più abbiamo detto di non usare le sostanze chimiche per aumentare la quantità di vino. Mi spiego. Io prendo il grappolo. Nel grappolo d'uva ci sono i miceti, quella polverina che sta sopra il chicco. Grazie a quei miceti il chicco fa passare la polpa da polpa a vino. Grazie a quei miceti. Quindi ogni zona, ogni vigneto ha i suoi miceti, ha i suoi vitigni. Quando questi grappoli arrivano qua, portati all'interno di queste vasche, noi, sottolineo, non utilizziamo come tenuti di fraternità nessuna sostanza chimica per aumentare la quantità. Facciamo la vinificazione ottenuta solo attraverso i miceti che erano contenuti nei grappoli. C'è un binomio interessante da sottolineare, uva e olio. Come ci si arriva? Qual è il collegamento? Questa è la vinaccia. All'interno del chicco dell'uva sono presenti gli acini, i vinaccioli. Questi sono tutti i vinaccioli, vedete quanti ne sono. Con i vinaccioli si può ottenere un olio di semi di vinacciolo, che potete trovarlo anche al supermercato. È l'olio migliore perché resiste alla temperatura di cottura e contiene poi una quantità notevole di Omega 3. Simone Fratini, agronomo di Fraternita, ci aiuta a capire le proporzioni e le quantità. Ad esempio, quanto vino si può ottenere da 100 kg di uva? Da 100 kg di uva si ottengono inizialmente circa 4 kg di raspi. Il raspo è in sostanza dove erano attaccati gli acini. E 96 kg di mosto. Questo mosto poi andrà a fermentare e dopo 18-20 giorni finita la fermentazione separiamo il liquido dalle vinacce. Le vinacce sui 100 kg iniziali rappresentano 12 kg e il liquido che alla fine viene fuori rappresenta un 74 litri di vino ancora feccioso. Questo vino feccioso verrà separato dopo un altro mese dalle fecce e diventeranno 70 litri.